Grazie, l'onorevole Carello del Parlamento italiano. Grazie Presidente. Colleghi, oggi dobbiamo riportare l'attenzione su quello che è il tema di discussione in questa sessione, cioè la legittimità democratica dei programmi di aggiustamento. Bene, qui ritengo che piuttosto che parlare di legittimità democratica si dovrebbe parlare invece di un atto completamente illegittimo che è stato fatto passare in maniera democratica. E parlo del fiscal compact perché il fiscal compact nel suo articolo 3 ha introdotto evidentemente un rafforzamento dei parametri di bilancio, introducendo e restringendo quelli già inclusi e previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quindi in questo momento noi ci dobbiamo chiedere e dire ai cittadini europei chi decide, se non gli stati membri, se è stato possibile bypassare un trattato che unisce e su cui è fondata l'Unione Europea da parte di alcuni paesi o per la mano longa della Troica, se questo non ha minato la democrazia della nostra Unione e se questo non ha creato un precedente, perché qui tutti siamo d'accordo e penso che tutti quanti abbiano detto che i danni provocati da questo fiscal compact nei vari paesi membri sono evidenti. C'è una disoccupazione in continua crescita, ci sono difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese e c'è un fenomeno recessivo in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi se gli effetti sono questi e se l'atto è illegittimo perché il protocollo numero 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea è in netta contraddizione e contrapposizione con l'articolo 3 del fiscal compact. Quindi chiediamoci signori qual è la legittimità democratica di questo atto e nel caso adottiamo la clausola di recesso che tutti gli stati che abbiano aderito a quell'accordo possono utilizzare. Grazie.